Giganti che camminano tra la gente, reti fatte di esseri umani, cavalli sospesi dal cielo e tante altre sorprendenti rappresentazioni sceniche per raccontare Afrodite e il giudizio di Paride. La Fura del Sbaus La Fura del Sbaus Tra grandi elementi scenografici è un disegno lucido e fortissimo impatto col quale ha coinvolto tutto lo spazio centrale della Mostra d'Orclemare con i suoi edifici. Al centro la mitologia, il giudizio di Paride che fa scaturire prima la guerra fra tre idee e poi quella fra Greci e Troiani a cui viene restituito con luci e colori la sua epicità. Grazie 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 Grazie